Hai tagliato le unghie? Tagliato le unghie e fatto tutto a posto. Allora qui si dice in giro che c'è dell'agitazione, ma c'è il testo, stai chiamando la gente perché non sai che cazzo fare. Sentite come parla. Agitato, balbetti. Dobbiamo andare col paracadute. Dobbiamo andare col paracadute, che sia chiaro. C'è il bugo del culo che non gli ci passa uno spillo. Sì, perché non sai che cazzo fare, perché guarda qui c'è agitato. Siamo andati a mangiare, il crescione, con la scusa che non gli piacciono le croste, a forza ricavano tutto, c'era rimasto un rubino così. Poi l'ha incartato, ha fatto finta di dar rimorso, l'ha incartato e l'ha buttato via. Il frappè, poi l'ha vomitato tutto. Ecco, ecco, no, l'ho vomitato un caso, prima cosa. Seconda cosa, adesso mi vai di caffeina, porco cane, sei qua che non riesci a guidare la macchina, porco cane. Ma te sei matto. Ma te, ma dagli un taglio, figa, porco. Ciao ragazzi, a dopo. Ci vediamo dopo il salto, eh.